Buon pomeriggio a tutti, saluto sia gli ospiti in sala che quelli che ci stanno seguendo in streaming. Noi siamo qui in questo palazzo bellissimo a Verona, al VTE, alla ventitresima edizione di questo evento importante che mette proprio al centro la valorizzazione del patrimonio culturale. E oggi pomeriggio ci incontriamo per raccontarvi di un progetto che sta nascendo in queste ore, sta prendendo forma in queste ore. Io sono Laura Versa, responsabile marketing di Coppoculture, e con me ci sono degli ospiti che sono i soggetti attuatori del progetto e insieme a loro vi racconteremo quello che è accaduto da dicembre scorso ad oggi in fase di progettazione e quello che accadrà dalle prossime ore in un borgo bellissimo che è considerato il polmone verde della costa d'Amalfi che è il comune di Tramonti. In questo comune prenderà vita e forma la casa del gusto e trasformeremo, proveremo a trasformare il borgo in un borgo del gusto. Con me ci sono in presenza in sala Letizia Casuccio, direttore generale di Coppoculture, in videocollegamento c'è il sindaco del comune di Tramonti che saluto, Domenico Amatruda, buon pomeriggio, e il presidente del distretto turistico della costa d'Amalfi, Andrea Ferraioli, buon pomeriggio Andrea. Io partirei proprio dal raccontare com'è nata questa idea di borgo del gusto e in un pomeriggio di dicembre, soleggiato, perché comunque parliamo della costa d'Amalfi, dove un po' casualmente ci siamo imbattuti in questo borgo meraviglioso. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere questo edificio e da lì poi è nata un'idea per presentare una proposta progettuale finanziata dalla linea Borghi del Ministero della Cultura che ha finanziato ben 289 comuni per progetti di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Lo farei raccontare proprio dalla persona che in qualche modo quel famoso pomeriggio di dicembre era a Tramonti e insieme appunto ad Andrea Ferraioli e anche al vice sindaco del comune di Tramonti, Vincenzo Savino, che ci sta seguendo in diretta streaming e che saluto. Insomma, siamo approdati alla Casa del Gusto. Prego Letizia, raccontaci questo pomeriggio e la genesi di questo progetto. Bene, intanto ringrazio anche io, Tiero, Berfiattelli, per averci ospitato e dato questa opportunità di raccontare diciamo questo progetto che è un progetto davvero molto ambizioso e che nasce da una da una attività che Coppulture stava comunque appunto su sellecitazioni di Robert Piattelli mettendo proprio in piedi sulla costa d'Amalfi e abbiamo aderito al distretto della costa d'Amalfi preseduto da Andrea Ferraioli che saluto e quindi diciamo siamo uno dei pochi soggetti nel distretto che si occupa delle cose che facciamo noi quindi di valorizzazione integrata del patrimonio culturale. Dovendo, c'erano appunto proprio quei giorni che erano i giorni in cui sono usciti i bandi borghi di cui parlava Laura Versa stavamo alla ricerca anche di comunità che potessero in qualche modo accogliere un progetto proprio fatto dal basso così si dice nel patenariato pubblico privato i progetti possono nascere dalle amministrazioni o le amministrazioni possono raccogliere delle idee che vengono appunto da privati o da privati cittadini da imprese eccetera e noi avevamo nella testa di sposare e quindi di essere soggetto proponente di alcuni importanti progetti dei borghi italiani ci stavamo chiedendo dove spingerci come progettualità Robert come al solito ci suggerisce la costa di Amalfi e noi andiamo alla ricerca di un comune di un piccolo borgo della costa di Amalfi e quindi abbiamo fatto un po' un giro quel pomeriggio di dicembre cioè quelle giornate di dicembre naturalmente per rinfrescare anche la memoria sulle opportunità e poi siamo approdati appunto in un poveriggio bellissimo e assolatissimo come spesso succede in costa di Amalfi nel borgo di Tramonti che è una comunità montana incredibilmente nella costiera amalfitana c'è questa meravigliosa comunità montana pertanto abbiamo fatto un giro con il vice sindaco che anche io saluto e diciamo abbiamo raccolto subito immediatamente questa sfida di farlo lì questo progetto di progettare lì la possibilità che da un piccolo borgo ne nascessero delle occasioni di sviluppo economico e di occupazione di qualità questo perché oltre all'arte e l'ambiente sicuramente c'è tutto un tema che subito è balzato agli occhi che è quello della promozione di itinerari e di momenti di enogastronomia quindi sul terismo enogastronomico sicuramente Tramonti nei prossimi anni farà un grandissimo passo avanti perché noi ci metteremo non solo tutta la nostra progettualità ma anche tutto il nostro bagaglio di relazioni nostro e quello dei nostri partner che sono partner oltre al comune di Tramonti ma partner di grande qualità insomma di cui vi parleranno Laura Versa e gli altri interlocutori Andrea Ferraioli e il sindaco di Tramonti che conosce molto bene nel dettaglio qual è tutta la base del partenariato il progetto ed è la forza e la forza di questo progetto sta nel fatto che noi abbiamo puntato moltissimo nella costruzione non solo di un evento o di un contenitore culturale appunto in questo caso la casa del gusto che era già presente a Tramonti ma soprattutto nella nascita di una nuova realtà imprenditoriale che gestirà il progetto tutorato da Coppulture che sarà proprio una cooperativa di comunità quando si parla di cooperative di comunità si parla di strutture che sono in qualche modo partecipate sia dal pubblico sia da soggetti privati che poi svolgono le attività ma sono soprattutto partecipate dalla comunità quindi il nostro è un partenariato pubblico privato alla quale allacciare sicuramente una quarta P che è People perché senza la comunità questo progetto non avrà nessuna possibilità di sviluppo e quindi insomma crediamo che la comunità è una comunità molto pronta a ricevere sollecitazioni e quindi credo che ci darà delle grandi soddisfazioni e comunque passare il turismo farlo passare attraverso lo sviluppo di questi piccoli centri davvero sarà la chiave vincente del nostro paese grazie Laura a te la parola sì grazie Letizia e in realtà appunto come diceva Letizia la vera novità è anche lo strumento che è stato messo in campo per presentare questa progettazione che è il partenariato speciale pubblico privato uno strumento innovativo che ci ha consentito a Coppoculture di fare questa proposta al comune e anche di coinvolgere altri partner privati che potessero contribuire al progetto con servizi interventi specialistici e attività infatti il progetto Casa del Gusto che ha l'obiettivo di trasformare questo spazio in un laboratorio permanente dove è possibile valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio quindi uno spazio degustazione un corner shop messo a disposizione degli operatori del territorio per presentare prodotti tipici ma anche uno spazio di formazione formazione specialistica sul tema dell'enogastronomia ma non solo anche sul tema del recupero delle tradizioni e degli antichi mestieri perché uno degli obiettivi del bando era anche quello di in qualche modo favorire la creazione di livelli occupazionali e anche invece scoraggiare lo spopolamento di questi borghi il bando era indirizzato a borghi con un numero di abitanti inferiore a 5.000 l'obiettivo era proprio quello di rigenerarli sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista sociale e quindi proprio per rispondere a questi requisiti e soddisfare quelle che erano diciamo raggiungere gli obiettivi richiesti sì dal capitolato ma che avevamo in testa insomma rispetto alla nostra progettazione abbiamo coinvolto altri partner privati primo tra tutti il distretto turistico di Costa Damalfi che partecipa e è a bordo diciamo di questa rete nel progetto proprio con un intervento molto specialistico sulla formazione sia destinata ai giovani del territorio sia su un progetto diciamo di coinvolgimento della comunità della cittadinanza anche più diciamo adulta proprio per per attivare quello che è un processo di consapevolezza e di coinvolgimento della comunità nel in quelle che sono un po' le leve della promozione dell'accoglienza che una destinazione quale quella che vuole essere il borgo di tramonti con casa del gusto deve possedere questo lo farei raccontare proprio al partner privato che appunto è a bordo di questo progetto che è Andrea Ferraioli e che a cui cedo cederei la parola se non lo vedo in videocollegamento ma penso che ci sarà per arrivare eccoci ciao Andrea buon pomeriggio io sono in un posto un po' particolare perché sono alla macchia ma non alla macchia perché sono sono in fuga ma sono in un autogrill sulla sull'autostrada mi sono collegato da qui e ringrazio nuovamente è un vero piacere partecipare a questo a questo incontro e ringrazio Letizia e Laura intanto per l'impegno su questo progetto e poi per aver creduto in quello che stiamo per fare ringrazio anche Robert e Boutier che hanno hanno voluto presentare questo progetto proprio oggi e non posso non non far riferimento alla data che è il 16 settembre perché anche se rischio di essere un po' romantico un po' retorico oggi è il giorno è il compleanno di chi Raffaele Ferraioli che poi alla fine neanche anche mio padre ha ideato questo questo progetto della Casa del Gusto quando allora era presidente della comunità montana insieme naturalmente al comune di Tramonti e a tutti i sindaci della costa di Ramalfitana e questo è un progetto partorito inaugurato nel 2016 la seconda opera pubblica per dimensioni di tutto il territorio della costa di Ramalfi quindi seconda solo all'auditorium di Ravello che inaugurato nel 2016 purtroppo per una serie di vicissitudini non ha avuto occasione di ancora vivere di luce propria e quindi questo progetto sicuramente partorito in quella giornata di dicembre di qualche mese fa è una grande opportunità per il nostro territorio e soprattutto per quello collinare che poi è un po' diciamo la linea guida che segue il distretto nello sviluppo turistico della nostra area una destinazione famosissima conosciuta in tutto il mondo ma che diciamo ha ancora tanti margini di sviluppo nella sua parte collinare soprattutto in direzione di quel turismo enogastronomico esperienziale che oggi diciamo è tanto importante come segmento turistico per la nostra destinazione e quindi spero che questo progetto porti la casa a diventare quello che in origine doveva essere cioè una sorta di santuario dei sapori della costa d'Amalfi in cui potremmo avere l'occasione di dare spazio a quella cultura enogastronomica ma anche quelle tradizioni e quell'artigianato che è tanto importante per i nostri territori e che magari è meno conosciuto o meno conosciuta al turista un po' più più distratto io ripeto non non mi vado oltre voglio di nuovo ringraziare Copculture per aver creduto in questo progetto so che avevano l'occasione di sviluppare questo bando Borghi anche in altri territori ma hanno sposato la nostra idea hanno creduto fortemente nella possibilità che questo progetto possa avere un futuro Rosio e credo che questo futuro della Casa del Gusto sarà molto molto importante anche per lo sviluppo turistico di tutto il nostro territorio Grazie Andrea questa coincidenza di data sicuramente ci emoziona per chi ha lavorato al progetto e che appunto come dicevi tu Casa del Gusto è stata inaugurata nel 2016 fortemente voluta appunto da dal tuo papà e il concept noi non abbiamo fatto altro che riprendere quello che era l'idea e in qualche modo provare a contestualizzarla attualizzarla declinarla rispetto a quelle che erano anche diciamo i requisiti richiesti dal capitolato ma l'idea nasce lì prende forma fisicamente nel 2016 e noi ci auguriamo ci abbiamo creduto e il nostro obiettivo è quello appunto di portarla avanti che possa prendere non solo forma fisica ma proprio prendere corpo sostanza da da questo momento da questo momento in poi anche come diceva Letizia prima guardando al futuro rispetto a in un'ottica di sostenibilità il progetto prevede l'ideazione di una cooperativa di comunità proprio perché dopo la fine del finanziamento si possa in qualche modo costruire un braccio gestionale operativo che possa garantire la continuità di quelle che sono i servizi e le attività che abbiamo immaginato e che ora metteremo a terra grazie anche e soprattutto al comune che in qualche modo ha colto la nostra proposta di partenariato speciale pubblico privato dal basso e che è uno strumento assolutamente innovativo per cui non è stato semplice l'iter procedurale per arrivare alla presentazione della proposta progettuale perché tutto insomma appunto abbastanza nuovo e quindi da costruire e ma grazie devo dire all'amministrazione comunale a tutto lo staff del comune di Tramonti che insomma insieme a noi ha creduto fortemente in questa cosa e questo non è scontato anche trovare all'interno insomma di comuni anche non così grandi ecco la la disponibilità ad affrontare una sfida fondamentalmente ad intraprendere un percorso di sfida visto l'innovazione degli strumenti che abbiamo messo in campo e questo appunto lo farei raccontare al sindaco di Tramonti Domenico Amatruda che ha messo a disposizione tutto lo staff affinché questo progetto potesse essere presentato e devo dire con una punta di orgoglio ricevere il finanziamento risultando diciamo ricevendo il punteggio più alto tra i 289 comuni finanziati sindaco buonasera 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 io ritengo innanzitutto di dover ringraziare quindi Coppetture il distretto ma ritengo anche in questo momento Laura me lo devi consentire nominare e ringraziare anche tutti gli altri partner che si sono affezionati a questo progetto che hanno accettato come dicevi tu la sfida perché per me questo effettivamente è una sfida e quindi voglio ringraziare prima i tre partner pubblici perché ritengo importante che siano partecipi entità pubbliche quindi ci sta l'università Federico Federico II di Napoli il dipartimento di architettura l'istituto scolastico di Tramonti l'istituto comprensivo perché ritengo che questi in primis devono partecipare perché devono essere l'anima di questo progetto o perlomeno coloro che potranno godersi queste attività che noi stiamo mettendo in piedi e la comunità montana proprietaria dello stabile che da subito ha dato la disponibilità a darcela e consentitemi una parola perché non lo faccio così all'amico e a colui che riuscivo a vedere sempre oltre la collina come si dice da linea parti quindi al papà di Andrea Raffaele Ferraioni che ha progettato questa casa del gusto che dopo tanto tempo noi rendiamo un progetto che si chiama Borgo del gusto quindi questo per dare merito a chi ha già dato nel tempo inizio a questa progettazione a questi tre partner pubblici si sono affiancati i partner privati tra i quali sta Coppocultura perché chiaramente è un partenariato che come hai detto è stata anche quella una sfida di voler a tutti i costi intraprendere la strada e riuscire a comprendere bene che cosa fosse perché in realtà come hai detto in un piccolo comune non è facile comprendere nemmeno questo tema che è partenariato e quindi voglio ringraziare Gambiero Rosso che abbiamo già sottoscritto l'accordo ieri voglio ringraziare Andrea Ferraori distritto turistico chiaramente sono felice che quel giorno di dicembre in un giorno assolato siete cavitati dalle mie parti vi ringrazio e mi sono anche fiero e felice Electrify un'altra scommessa del distritto e del comune di Tramonti che della mobilità in bike sharing in Costa da Maffi Salvatore Deriso Salderiso questa azienda che chiaramente per un bel periodo sta facendo la storia della nostra Costa da Maffi e Fadoheim un'altra società che è sorta da poco chi si occupa di vini a questi a questi qua ci stanno delle tre associazioni che faranno delle proprie progettazioni ma che non hanno minore importanza soprattutto anzi tutte e tre perché io ritengo che tutti che tutti questi che si siamo avvicinati a questo progetto sono da ringraziare quindi ho l'associazione Pizza che alla quale va tutto il mio particolare ringraziamento perché riguarda persone di questo paese che si sono spostate negli anni in altri paesi a portare questo prodotto che è la pizza mi riferisco al centro di storia e cultura marfitana un ente che nel tempo ha fatto effettivamente ha ripreso la storia delle origini della nostra terra in un modo gratuito in un modo perfetto sincero ma soprattutto in un modo autentico e l'altra associazione che è il consorzio del limone ICP un prodotto di eccellenza del nostro territorio fatto i ringraziamenti Laura tu dicevi effettivamente un qualcosa c'è questo finanziamento che serve per raggiungere degli scopi io sono già su quegli scopi perché quello che è importante che non è che la cooperativa di comunità la quale anche voi facevate riferimento è un qualcosa che dovrà poi essere costituita quella è un qualcosa che noi siamo già proiettati a costruirla perché devono essere istruiti per poter portare al tema in un lungo periodo e quindi portare sul territorio degli aspetti che oggi manca quasi del tutto nei paesi della colina collinare così come diceva Andrea della costa da Marti che per certi versi hanno avuto uno sviluppo diverso nel tempo perché non sono affacciati direttamente sul mare hanno dovuto fare degli sforzi in mani per raggiungere un determinato livello oggi hanno tutti gli spazi così come si diceva in precedenza per ottenere quello sviluppo che si ha lo sviluppo soprattutto mettere in funzione la casa del gusto creare occupazione ma soprattutto creare attrazione per questo borgo per questo paese che può dare dire tutta la sua può essere un turismo alternativo a quello che normalmente si offre in costa da Marti e quindi può essere un turismo enovastronomico culturale legato alle nostre tradizioni alle nostre alle passeggiate di trekking in questo così come voi avete detto il polmone verde della costa da Marti e perché no quindi noi siamo già in quella fase io cerco di intravedere quello che sarà il risultato finale così come quando io ho incontrato voi voi mi avete semplicemente descritto che cosa era intenzione fare e portare all'attenzione del ministero per ottenere dei fondi io cercavo già di comprendere di portare a termine un qualcosa che nel nostro paese più di altri paesi della costa da Marti era una struttura pressoché abbandonata per tanti motivi poteva sembrare uno di quelle cose di cattedrale costruite nel deserto seppur in un momento storico e con una grande visione da parte di chi aveva proposto e creduto in quell'iniziativa mi sembrava quasi un disconoscimento dei meriti di quelle persone che avevano creduto fortemente in quello sviluppo in quel punto di incontro di tutto quello che può raggruppare la costa da Marti ebbene noi la vedevamo tutti i giorni e sapere che da domani avremo insieme con voi che mi aspetto poi tantissimo perché da una società e da una cooperativa come la vostra mi aspetto immagini mi aspetto tutto quello che Knoá questo termine che è probabile in inglese io non riesco nemmeno a pronunciare perché tutto sommato non fa parte della mia cultura e quelle conoscenze che ci possa portare a raggiungere dei livelli altissimi di diventare un volgo attrattivo di diventare un volgo che sia soprattutto da esempio anche per altri volchi che sull'esempio di queste progettualità di queste progettazioni un domani possono seguire la stessa strada io di quello che voi avete fatto ne sono fiero contentissimo sono qua a vostra completa disposizione perché essendo se sono a vostra completa disposizione sono a disposizione della mia comunità che era piccola tramonti ma quando parlo di tramonti io parlo di Costa da Marfi un insieme unico di bellezze che vanno sempre tutelate e portate quando più in alto possibile nel mondo io non penso di dover aggiungere altro se non l'augurio che sia l'inizio di uno sviluppo di questo borgo dal punto di vista turistico e che da questo momento in poi non possa più conoscere momenti di stasi o di fermi assoluti grazie grazie sindaco assolutamente siamo in linea e quindi non ci resta che augurare a tutti noi augurarci buon lavoro il progetto è partito e magari al prossimo anno saremo qui a raccontare diciamo a rendicontare anche già le prime azioni che abbiamo messo a terra io penso che il tempo a disposizione è terminato cedo la parola a Robert e saluto tutti quanti sindaco la prossima edizione del WTA la facciamo alla casa del gusto va bene? io penso che sia un 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 odore da parte mia ma non solo da parte mia dalla parte della da parte della costa da mafia perché no perché sai allora partiamo due due l'edizione scala abbiamo fatto a palazzo della ragione a Padova quella prima a palazzo Venezia a Roma questa palazzo della gran guardia a Verona e la prossima alla casa del gusto al tramonto su questo vi aspetto vi aspetto abbraccio aperte come si dice sindaco la ringrazio e tutti noi la invidiamo per il posto in cui eh lei vive e per questa responsabilità che ha io ringrazio con questa volta con anche grande affetto Andrea lui sa perché per cui buon proseguimento ora c'è la città di metropolitana di Napoli non andate via grazie a tutti